Il consigliere Vito Lacoppola da due anni ha preso a cuore il quartiere Bari Domani, situato ai margini tra Picone e Poggio Franco e ad oggi ancora una zona periferica abbandonata. Il complesso nasce nel 2009 come programma integrato nel quale, oltre ad abitazioni libere, ci sono abitazioni agevolate per le forze dell'ordine ed edilizia sovvenzionata. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è dare una mano ai circa 600 abitanti della zona ad essere riconnessi alla città. Stiamo risolvendo due problemi importanti di questo quartiere. Il primo è quello della raggiungibilità, realizzando una nuova rotatoria di cui oggi abbiamo anche dato un'anteprima dello schema. La rotatoria verrà realizzata con le manutenzioni straordinarie strade che sono state già mandate in gara, contrattualizzate, sono di prossimo inizio, prevediamo una cantierizzazione nel giro dei prossimi mesi e prevediamo la realizzazione di una rotatoria di tipo temporaneo che interesserà proprietà già nella disponibilità del Comune, quindi non servono procedure espropriative. L'attuale amministrazione comunale ha anche portato a termine le procedure di collaudo per l'agibilità delle abitazioni e delle strade, per poter effettuare quei lavori di manutenzione necessari a rendere fruibile la viabilità. Inoltre sono in arrivo sia una rotatoria provvisoria per migliorare il collegamento con il centro cittadino, sia l'impianto di illuminazione necessario alla sicurezza dei cittadini. Il secondo intervento che andremo a realizzare è un intervento di pubblica illuminazione che riguarderà il tratto che va dalla rotatoria a farsi fino allo svincolo già illuminato in corrispondenza dello stadio e l'illuminazione che interesserà la parte centrale dello spartitraffico permetterà di essere un forte deterrente a quello che è il fenomeno della prostituzione tipico di quelle zone, così come abbiamo già avuto modo di verificare in altre zone che sempre intorno allo stadio abbiamo recentemente illuminato con effetti anche positivi. Infine, sempre con l'interesse del consigliere Lacoppola, all'Amtab è stata richiesta una pensillina per un'apposita fermata nel quartiere, mentre all'Amio è stato chiesto di potenziare l'isola ecologica. Ci siamo impegnati in questi due anni e ora iniziamo a raccogliere i frutti di tale impegno politico. Tra gli interventi previsti, oltre alla rotatoria provvisoria per favorire l'ingresso e l'uscita dal complesso, con l'implementazione dei corpi illuminanti, abbiamo previsto una fornitura di attrezzature e giochi per un piccolo giardino all'ingresso per i bambini del complesso. Nonché stiamo cercando di favorire l'installazione di una pensilina Amtab per la fermata dell'autobus, nonché l'implementazione delle isole ecologiche.